I Medici. Una dinastia di banchieri, politici e mecenati. La dinastia dei Medici è stata una delle più importanti e influenti famiglie della storia italiana. Originaria di Firenze, la famiglia Medici ebbe un ruolo di primo piano nella politica, nell'economia e nella cultura della città e dell'Italia per quattro secoli, dal XIV al XVIII secolo. Origini ascesa al potere. Le origini dei Medici sono oscure. La famiglia è documentata per la prima volta nel XIII secolo, quando i Medici erano una famiglia di banchieri e mercanti di Firenze. Nel XIV secolo, i Medici iniziarono a acquisire potere politico, ricoprendo importanti cariche pubbliche nella città. L'ascesa al potere dei Medici è legata alla figura di Giovanni di Bici de' Medici, 1360-1429, che fu uno dei banchieri più ricchi e potenti d'Europa. Giovanni di Bici fu anche un importante mecenate dell'arte e della cultura, sostenendo artisti come Masaccio, Ghirlandaio e Donatello. Il periodo di Cosimo il Vecchio. Il figlio di Giovanni di Bici, Cosimo il Vecchio, 1389-1464, consolidò il potere dei Medici a Firenze. Cosimo fu un abile politico e un grande mecenate. Sotto il suo governo, Firenze divenne un centro di arte e cultura di fama mondiale. Il periodo di Lorenzo il Magnifico. Il nipote di Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico, 1449-1492, fu uno dei più importanti governanti di Firenze. Lorenzo fu un abile diplomatico e un grande mecenate. Sotto il suo governo, Firenze fu un centro di rinascita culturale e politica. Il declino e la fine. Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, i Medici continuarono a governare Firenze per altri due secoli. Tuttavia, il loro potere iniziò a declinare nel XVI secolo, a causa delle guerre di religione e delle lotte interne alla famiglia. Nel 1737, la dinastia dei Medici si estinse con la morte di Gian Gastone dei Medici. Il Gran Ducato di Toscana passò agli Asburgo-Lorena. L'eredità dei Medici. La dinastia dei Medici ha lasciato un'eredità importante nella storia italiana. I Medici furono dei grandi mecenati dell'arte e della cultura, e hanno contribuito a rendere Firenze uno dei centri culturali più importanti d'Europa. I Medici furono anche dei grandi banchieri e mercanti, e hanno contribuito a promuovere il commercio e l'economia italiana. Infine, i Medici furono dei grandi politici, e hanno contribuito a plasmare la storia dell'Italia. Personaggi illustri della dinastia Medici. Oltre a Giovanni di Bici de' Medici, Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, altri personaggi illustri della dinastia Medici includono Piero il Gottoso. 1414-1469, figlio di Cosimo il Vecchio. Giuliano de' Medici. 1442-1478, fratello di Lorenzo il Magnifico. Giulio de' Medici. 1478-1534, nipote di Lorenzo il Magnifico, che divenne Papa Clemente VII. Alessandro de' Medici. 1510-1537, nipote di Lorenzo il Magnifico, che fu duca di Firenze. Cosimo I de' Medici. 1519-1574, figlio di Alessandro de' Medici, che fu granduca di Toscana. Ferdinando I de' Medici. 1549-1609, figlio di Cosimo I de' Medici, che fu granduca di Toscana. Cosimo II de' Medici. 1590-1621, figlio di Ferdinando I de' Medici, che fu granduca di Toscana. Ferdinando II de' Medici. 1610-1670, figlio di Cosimo II de' Medici, che fu granduca di Toscana. Cosimo III de' Medici. 1642-1723, figlio di Ferdinando II de' Medici, che fu granduca di Toscana. Gian Gastone de' Medici. 1671-1737, figlio di Cosimo III de' Medici, che fu l'ultimo granduca di Toscana della dinastia Medici.